Musica Ed eccoci qua ragazzi Bentornati sul mio canale Qui è sempre Uchikagimer che vi parla E siamo tornati su One Piece Odyssey Allora siamo qui Che stiamo scalando la torre qui in Allora andiamo qui Prendiamo sto robo Qualcosa mi dice che io devo andare là sopra Ma come ci vado lì? Ho sbagliato strada No mi sa che è giusto Però devo capire come salire su Forse di là C'è il modo di salire Ah è lì guarda Oppala Perfetto guarda là No di lì non si arriva Come facciamo Noi siamo arrivati qua Però io non vedo Altro modo Per poter proseguire Perché di là rampicanti Non ce ne sono Allora noi da lì siamo arrivati E come ci andiamo là? L'ideale sarebbe fare da qua Ma Io non vedo strade Lì sta Lì sta Uttutto Uttutto Devo sapere come poter andare su Senza svegliare costui Perché comunque Allora Ci deve essere un modo per poter andare di sopra Svegliare costui Che palle È l'unico modo è qua Salire qua E ma poi Io non vedo altro Io non vedo altri passaggi da qua Non ho altri appigli da prendere Io non vedo altri passaggi da per poter andare di sopra Non vedo altri passaggi da per poter andare di sopra Non vedo altri passaggi da per poter andare di sopra Non vedo altri passaggi da per poter andare di sopra Non vedo altri passaggi da per poter andare di sopra Non vedo altri passaggi da per poter andare di sopra Io qua intravedevo roba Non vedo altri passaggi da per poter andare di sopra Non vedo altri passaggi da per poter andare di sopra Ok Siamo arrivati qua Penso il puno in top Non vedo altri passaggi da per poter andare di sopra Lì c'è roba Interessante l'aspetta Dovretta celeste ottenuta Uff Ok è lì dentro come si è entrato ok Questo lo prendo Allora Qua c'era C'ha bisogno di chopper qua Ah ma qua è Ok ho capito qua dove siamo Ok era la shortcut quella Ok Qua Qua Ok dovremmo Dovremmo esserci Ok dovremmo esserci Ok C'è sicuramente l'acqua, ma non c'è nulla. Questa è arrivata. Questa è arrivata, questa è arrivata, questa è arrivata. E saliamo Siamo arrivati Oh Siamo arrivati No, questo è di tipo L'amadoi Ok Stipulci membro della Churn Stipulci 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 Ok ce l'abbiamo fatta subito così Ok ci siamo Emo Longevita Longevita Questa è la storia? Accorre Cosa Questa è la storia? Ci sono un'arco di spessore Qui si troppano la lettera? Cosa 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 Si non ha dovuto andare a vedere Cosa Robin, per favore, mi chiede un po' di lettura. Eh, sicuramente. Potremmo avere un po' di tempo. Lì dove? Che razza di lingua si tratta? Aspetta, vabbè, parlo direttamente con Robin. L'ODA non riesco a leggere il resto e neanche le scritte qui sotto, ma... I caratteri usati hanno un'aria familiare. È la prima volta che vedo qualcosa di simile. Non ho informazioni sufficienti. Potrebbe esserci qualcosa al riguardo in una memoria. Chiediamo a Lynn. Ma andare a memoria potrebbe esserci degli indizi al riguardo. Va bene. Che ne dici? Eccoci qua. Alla basta potrebbe essere una possibilità. Ok, è così. Esa chi va a fare una cosa giusta? Non ci sarà capirata. È così. Non ci sarà capirato. È il vero che ho a vedere le spline di l'aino deiudi. Noi è capirato di l'aino. Non cevo ci in questo modo. Non cevo ci in questo caso, non ho implied mai. Andiamo al museo reale Ok Questa è la mia, Robby, è che ci sono delle miei scritte in questo modo. Certo, hai visto che qui c'è la terra? Hai visto che c'è la terra? Ah, hai visto? Ah, ho pensato! Certo, c'è una scuola di un'angelo di un'angelo. Io non ho capito un tempo ma andiamo Ok Ecco qua Arrivati C'è un saccino? C'è un'espo? Il suo c'è un'espo? C'è un'espo? C'è questo tipo di scrittura, non di scrittura, non di scrittura. Andiamo a tornare a tornare a tornare. Ok, andiamo a tornare a Waffledo! Cosa, Robin? Sì, è vero. 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 Questo simbolo è una... Già, lo so, è... ...gakuf, ne? È vero. È vero. È vero. Nella gialla, cosa è? Cosa cosa è? La gialla, la gialla, è la gialla. È una gialla. Se c'è una gialla, la gialla costruisce un solo gialla. Ma è vero. È vero. È vero. Questa è vero. È vero. Non si può fare un giallo, non mi piace. è così allora allora guarda i dati di memoria così rispondiamo a memoria localizzare lo spartito allora questo non è uno spartito qualunque deve essere legato a waford c'erano dei volumi a waford nell'archivio della torre della giustizia ok vogliamo andare a water 7 abbiamo raggiunto water 7 come arriviamo alla torre della giustizia con il treno del mare chiediamo agli yosha di portarci lì credo di aver visto un cartello però potevano farmi interagire quel taxi ok perfetto vai al deposito ok dunque da che parte era il deposito eccolo qua ok 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 gaspita di deposito ecco Il è stato detto che il sogno di questo, che si è riuscito a riuscito a riuscermi i suoi, ed è stato scritto. Ehi, è stato detto che il sogno di riscaldamento e una canzone di riscaldamento. Esatto, il sogno di il sogno di humo di un sogno di riscaldamento. Io, sono parole, mi conosco la notazione. E che cavolo Avevamo la chiave a portata di mano Allora 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 Allora